E' stato individuato e recuperato privo di vita dai soccorritori il cacciatore 64enne di Valdastico disperso in Valdassa nel Vicentino di cui non si avevano notizie da ieri pomeriggio. Questa mattina la verifica di un punto estremamente impervio individuato dal sistema di ricerca d'edalo dei Vigili del Fuoco che individua i telefoni cellulari. Poco dopo la conferma veniva da parte delle squadre di ricerca della persona in un dirupo. Una squadra mista di Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino hanno proceduto al recupero del corpo dell'uomo che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le ricerche erano scattate nella serata di domenica con l'attivazione del piano provinciale di persone scomparse della prefettura dopo il mancato rientro a casa a Valdastico dell'uomo che si era sentito telefonicamente con la moglie poco prima di mezzogiorno. Presso la proloco di Pedescala il punto di coordinamento delle ricerche con la presenza di personale della tassa topografia applicata al soccorso dei Vigili del Fuoco con squadre di Schio Vicenza e il nucleo regionale di sistema aeromobile a pilotaggio remoto, il personale di Varese con il sistema dedalo e le squadre del Soccorso Alpino. Nella notte anche il sorvolo di un elicottero dell'aeronautica militare proveniente da Cervia che aveva sorvolato la zona con un particolare sistema di ricerca.